Panerai Luminor Submersible, eleganza e funzionalità. Se sei alla ricerca di un orologio che possa accompagnarti nelle tue esplorazioni subacque, senza rinunciare allo stile e alla qualità, il Luminor Submersible è la scelta perfetta per te. Questo orologio, prodotto dalla prestigiosa marca Panerai, è il frutto di anni di innovazione e di esperienza nel campo dell'orologeria subacquea. Con una cassa robusta e impermeabile, una ghiera girevole unidirezionale, un movimento meccanico di alta precisione e un design iconico. La sua cassa è realizzata in acciaio, titanio, bronzo o ceramica, materiali che garantiscono una maggiore resistenza agli urti e alla corrosione. La cassa è dotata di una corona protetta da una leva a ponte, una caratteristica iconica che contribuisce alla durata dell'orologio e alla sua impermeabilità, che varia da 100 a 300 metri a seconda del modello. La ghiera girevole unidirezionale, spesso in ceramica o titanio, permette ai subacquei di monitorare con precisione il tempo di immersione, evitando il rischio di girare accidentalmente la ghiera in senso antiorario. Il quadrante, spesso di colore nero, blu o argento, ha numeri arabi e indici luminescenti, che assicurano una buona leggibilità in ogni condizione di luce. Il quadrante è caratterizzato dal design iconico e riconoscibile del luminor, che richiama la tradizione marinara della marca Panerai. Il suo nome deriva dal materiale luminoso usato per rendere visibili le lancette e gli indici al buio, una caratteristica essenziale per gli orologi subacquei. Il quadrante ha anche il datario con finestrella a ore 3, la funzione cronografica visualizzabile su due subquadranti a essa dedicati e lancetta dei secondi cronografica a bastone di colore azzurro, e funzione cronografica flyback con lancetta a bastone di colore argento. Inoltre sul quadrante è possibile visualizzare il contatore dei piccoli secondi a ore 9. Il cinturino, spesso in pelle o cauccio, completa il look dell'orologio, conferendogli un tocco di eleganza o di sportività. I movimenti automatici, chiamati anche a carica automatica, sono alimentati dal movimento del polso. I movimenti manuali, chiamati anche a carica manuale, richiedono di essere caricati periodicamente girando la corona. Il Luminor Submersible è dotato di una riserva di carica che varia da 0 a 72 ore, a seconda del modello. La riserva di carica è indicata da una lancetta all'interno di un indicatore sul quadrante, che mostra il tempo rimanente prima che l'orologio si fermi. I movimenti meccanici del Luminor Submersible sono certificati dal COSC, Controllo Fisiel Suisse de Cronometre. Per ottenere la certificazione, i movimenti devono superare una serie di test rigorosi, che misurano la loro precisione in diverse posizioni e temperature. I movimenti certificati dal COSC sono considerati tra i più affidabili e prestigiosi nel mondo dell'orologeria.